Oggi proverò a rispondere a un quesito controverso. La vera identità di Lucifero e il suo rapporto con Satana. Sono la stessa entità o due figure distinte? E cosa ci dice la Bibbia a riguardo? Te ne parlerò in questa puntata. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco, benvenuto nel canale, gli angeli sono con noi. Satana e Lucifero sono due figure iconiche del male, spesso considerate come la stessa entità. Ma è davvero così? Immagino che anche tu, almeno una volta nella vita, ti sia fatto questa domanda. Però, dove trovare una risposta soddisfacente? La Bibbia offre degli indizi autorevoli su questa controversa questione, ma non basta leggerla e magari darne una propria interpretazione come fanno i protestanti. No, è necessario affidarsi a una guida sicura. Così, un po' di tempo fa, ho acquistato questo libro, Gli Angeli Ribelli, il mistero del male nell'esperienza di un esorcista, scritto da padre Francesco Bamonte, attuale vicepresidente dell'Associazione Internazionale Esorcisti. Ho iniziato a leggerlo e da subito l'ho trovato molto interessante e ben fatto. Sin dalle prime pagine, l'autore argomenta con chiarezza una tematica non sempre facile da approcciare. È da questo libro che ho tratto le informazioni che adesso ti esporrò. Perché queste sono le fonti alle quali dobbiamo abbeverarci per conoscere sempre meglio il nemico ed equipaggiarci di conseguenza con le armi più adatte. In caso contrario, se non fosse così, dato che la missione del canale è quella di apprendere sempre più come attirare la presenza degli angeli e allontanare quella dei demoni, se non fosse così, questo apostolato sarebbe inutile. Tanto varrebbe chiudere e dedicarsi ad altro. Ma, poiché sappiamo bene qual è la nostra meta, a Dio piacendo quest'opera non farà che crescere, perché oggi il male è ovunque, e pochi sono coloro che cercano di opporsi ad esso con le armi più adatte. Perciò, se non sei iscritto ancora al canale, iscriviti adesso e attiva la campanella per non perdere i prossimi video su questo tema. E se questa puntata è di tuo gradimento, ti invito a mettere un mi piace e a lasciare un commento per dire la tua. Ebbene, ti rifaccio la domanda iniziale. Satana e Lucifero sono la stessa entità? Mentre ci pensi su, ti dico cosa ho scoperto. Per rispondere a questa domanda, dobbiamo andare alle Sacre Scritture e alla riflessione che la Chiesa ha maturato a partire da esse. Iniziamo allora dal capitolo 10 del Vangelo di San Luca. I 72 discepoli, mandati da Gesù ad annunciare la venuta del Regno di Dio, erano tornati pieni di gioia. Stupiti e ammirati per gli effetti benefici della loro missione, dicono, Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Gesù allora risponde in un modo che potrebbe sorprenderti. Dice, Vedevo Satana precipitare dal cielo come folgore. Perché risponde così? La spiegazione che danno i padri della Chiesa è molto interessante. Con quella risposta, Nostro Signore non si stava riferendo soltanto all'ingresso del Regno di Dio fra gli uomini, e alla conseguente fine ormai imminente del potere tirannico esercitato da Satana sull'umanità, ma intendeva rievocare anche un avvenimento ben preciso. La caduta iniziale di Satana e degli altri angeli ribelli insieme con lui. Ora, perché quell'angelo poi decaduto fu chiamato dai padri Lucifero? Questo nome proprio compare davvero nella Bibbia? Gesù stesso, in fin dei conti, lo chiama solo Satana. Dunque, ecco la motivazione. Riflettendo su quelle parole, l'insegnamento cristiano sin dai primi secoli le collegò ad un testo del profeta Isaia, che in sé parla del re di Babilonia, ma nel quale si intravide pure un riferimento al primo degli angeli, per indicarne la condizione precedente alla sua irrimediabile caduta. La versione ebraica di questo testo dell'Antico Testamento dice così. Una frase che effettivamente fa ripensare alle parole di Gesù Ora, nel testo latino della Vulgata, ovvero la traduzione latina della Bibbia operata da San Girolamo e fatta propria dalla Chiesa Cattolica, si legge Come mai sei caduto dal cielo Lucifero, figlio dell'Aurora? Perché qui appare il nome Lucifero, inesistente nella versione ebraica, al posto di stella splendente del mattino? È molto semplice. La Vulgata, sin dall'inizio, tradusse l'espressione ebraica Helel di Isaia, che vuol dire splendente, la tradusse con Lucifer. Termine latino che vuol dire portatore di luce, per cui si legge Come mai sei caduto dal cielo Lucifero, figlio dell'Aurora? Questa traduzione corrisponde a sua volta al testo greco della Bibbia, quella detta dai Settanta, in cui troviamo la parola Eosforos, cioè portatore di luce. Ma c'è di più. Prima di continuare, però, permettimi di farti il seguente invito. Il canale Gli Angeli Sono Con Noi esiste ormai da un anno e mezzo. Ha all'attivo 228 video e circa 2 milioni e 600 mila visualizzazioni, per non parlare delle centinaia di commenti, molti dei quali sono delle vere e proprie testimonianze di conversione, e delle numerose email che ogni giorno arrivano. Tutti questi risultati mi riempono di gioia e mi rendono consapevole dell'importanza di quello che insieme stiamo facendo. Devi sapere, però, che dietro a tutto questo lavoro c'è molta dedizione e impegno e anche non pochi costi da sostenere. Queste spese sono coperte in parte dalla generosità di quanti sono membri del gruppo Apostoli dei Santi Angeli, ai quali va tutta la mia riconoscenza. Di quali costi parlo? Te ne faccio un elenco breve e poi torniamo al nostro tema di oggi. Innanzitutto, ci sono le spese legate all'attrezzatura e i programmi utilizzati per realizzare questi video. Nel tempo l'attrezzatura si usura e dunque va cambiata. E poi ci sono gli abbonamenti ai vari programmi che vanno rinnovati ogni anno o a volte ogni mese. Ma ci sono anche le spese legate alla diffusione dei video per raggiungere un pubblico sempre più ampio affinché un numero crescente di persone possa riscoprire l'importanza e la bellezza del mondo angelico. Ci sono poi anche altri costi di cui magari cifre alla mano ti parlerò più approfonditamente in un altro video ma che nella sostanza riguardano il personale della segreteria è anche il nostro esperto informatico. Perché ti dico tutte queste cose? Per farti un invito. Diventa oggi stesso membro del gruppo Apostoli dei Santi Angeli. Si tratta di un gruppo specifico composto da persone che credono nell'importanza di sostenere ed espandere sempre di più l'Apostolato del canale «I Angeli sono con noi». Ci sono sia benefici materiali che i membri ricevono a casa come un certificato di appartenenza, stampe, medaglie, libri, eccetera sia benefici spirituali come diverse sante messe celebrate nel corso dell'anno secondo le intenzioni di tutti i membri. Si tratta di una santa messa a settimana per un anno intero. Inoltre, nel corso dell'anno le tue intenzioni di preghiera saranno portate nei principali santuari cattolici del mondo in special modo quelli legati a San Michele Arcangelo. Come vedi, oltre ai video c'è molto di più. Se non fai ancora parte di questo gruppo clicca sul primo link che trovi in descrizione o nel primo commento in evidenza. Ti si aprirà una pagina dove troverai informazioni utili per sapere come entrarvi. Aiutami a far conoscere al mondo intero la missione e la potenza dei santi angeli sostenendo con la tua generosità questo apostolato. Bene. Ora, come collegare la traduzione ebraica Stella Splendente del Mattino con Lucifero che ribadisco significa portatore di luce? Ascolta bene. Il pianeta Venere per lo splendore che assume al mattino prima dell'alba era chiamato dai greci Eosforos e dai latini Lucifer. I padri della Chiesa fecero questa analogia. Come nel cielo di mattina poco prima del levar del sole vediamo splendere più di qualsiasi stella il pianeta Venere allo stesso modo fra gli angeli venera uno che prima della sua caduta splendeva in bellezza più di ogni altro fra gli angeli di Dio. Fu a seguito di questa similitudine che il termine Lucifer fu applicato a quello che era il più luminoso degli angeli poi ribellatosi a Dio. tale appellativo gli venne attribuito nella tradizione cristiana come il suo nome proprio ma tale denominazione non si riscontra espressamente nella Sacra Scrittura. Lucifer in italiano Lucifero più che un vero e proprio nome del diavolo è dunque un'immagine quanto mai espressiva per indicare quello che all'inizio era il più stupendo angelo creato da Dio divenuto successivamente il capo degli spiriti angelici ribelli a Dio. Numerosi teologi e padri della Chiesa adoperarono questo termine che di per sé esprime una condizione felice per indicare Satana che nel Nuovo Testamento è presentato come capo dei demoni. Il nome Lucifer così venne ad avere un senso malefico. Ora, vi sono alcuni teologi i quali affermano che stando a una stretta eseggesi ed ermeneutica letterale nessun testo biblico ci dà la base per ritenere che Lucifero sia il nome indicante anche Satana. È un'ipotesi che ha le sue ragioni ma a me personalmente convince molto di più quella data dalla tradizione della Chiesa. Qual è la tua opinione a riguardo? Scrivimelo nei commenti e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e parenti. Come sempre chiedo e prometto preghiere se il Signore vuole ci vediamo martedì. Che Dio ti benedica.